Siamo con mister Perrotta, subito dopo una sconfitta pesante mister, sia per il risultato 4-1 e sia perché è avvenuta in casa con la squadra che vi appaiava al quarto posto, anche se voi eravate, loro erano avanti per differenza reti e adesso hanno tre punti in più. Cos'è successo mister? No, niente, abbiamo sbagliato partita. Purtroppo ci sono successe troppe cose in questa settimana che sono andate storte. Non parlo del mercato, ha influenzato il nostro difensore centrale Mirabelli e abbiamo perso il nostro portiere Andreoli in un momento importante. Il secondo portiere era col dito steccato, quindi ha una frattura al dito, quindi bravo comunque. Ci sono quelle giornate storte, è capitata oggi, dobbiamo essere bravi a lavorare subito da martedì e non pensarci a questa giornata storta. Eppure si era partiti bene perché si è passati in vantaggio con rigore Fabio Longo, poi come una specie di blackout, anche se bisogna dare pure merito al Trebisaccio, ha fatto la sua onesta e ordinata partita, ha sfruttato le occasioni. Forse la mancanza di Mirabelli si è fatta sentita perché vi hanno infilato un paio di volte proprio sul limite del fuorigioco, con quella che forse era una tattica che lei si aspettava. Guarda, abbiamo preso il gol del pareggio nei minuti di recupero del primo tempo, quindi questo un pochettino ci ha lasciato sorpresi in quel momento. Mirabelli è importante per noi, noi siamo otto over, ma non è soltanto Mirabelli spostare del popolo da centrocampo in difesa, quindi gli equilibri si spostano, basta poco, però ripeto, una giornata storta, loro hanno meritato, hanno legittimato il secondo tempo, la vittoria, quindi nulla da dire, è soltanto una sconfitta, noi andiamo avanti per il nostro cammino, che è quella della, anche se tutti dicono i playoff, playoff, noi ci salviamo il primo possibile e poi come ogni anno giocheremo partita dopo partita. Bene, siamo con il vincitore di giornata, il patron del Trebisace, il presidente Corvo, allora buonasera a lei. Allora, una bella soddisfazione oggi, il Trebisace che conferma la sua posizione in classifica, con i tre punti si porta a 25 punti, quindi a prescindere dall'esito di domani, rimanete saldi al quarto posto, a 90 minuti dalla fine del girone di andata. È un buon risultato, questo vi aspettavate di più, di meno? È un ottimo risultato, non ci aspettavamo questo risultato e per quel che mi riguarda io mi godo il quarto posto, ma guardo ancora dietro perché sappiamo che la partita è ancora lunga, noi siamo partiti per fare un camminato tranquillo, per salvarci con meno ambasce rispetto all'anno scorso e tanto mi basterebbe. Oggi mi godo con i miei splendidi giocatori questo quarto posto che rappresenta non era e non è uno degli obiettivi della stagione. Una domanda d'obbligo, Presidente. Sulla sua società appende un ricorso che potrebbe costarli quattro punti. È un peccato perché mi sembra che i punti del Trebisaccio siano stati conquistati meritatamente sul campo, come abbiamo visto anche oggi. Questo potrà innervosire un pochettino l'ambiente? Siete preparati anche a una decisione negativa? Assolutamente, anzi io colgo l'occasione, la ringrazio per questo, colgo l'occasione per fare una dichiarazione distensiva a 360 gradi. Noi aspettiamo qualunque esso sia il giudizio della giustizia sportiva. Se ci toglieranno dei punti vuol dire che avremo commesso degli errori. Se non ci toglieranno vuol dire come pensiamo noi e che possiamo avere ragione. In ogni caso noi abbiamo affrontato con molta franchezza all'interno delle nostre mura questo argomento. Noi cerchiamo di fare il massimo possibile anche per questo motivo qui.